Ieri è stata effettuata l'autopsia sul corpo di Laura Petrolito, 20 anni, uccisa al compagno Paolo Cugno, nella notte tra sabato e domenica scorsi. Sono stati riscontrati sul corpo della giovane almeno 16 coltellate, individuate ferite all'altezza del cuore, del polmone e dell'intestino. Solo successive esami potranno permettere di stabilire con esattezza se Laura sia morta prima o dopo essere stata gettata nel pozzo e quali siano state le lesioni fatali. Intanto la famiglia del giovane sembra si sia allontanata da Canicattini. Il padre, la madre e il fratello dell'indagato avrebbero preferito cambiare aria evitando di appesentire una situazione ambientale già molto tesa. Il padre di Laura, Andrea, muove delle accuse ben precise ai carabinieri e ai servizi sociali. Nelle ultime ore ha sporto denuncia nei confronti di un assistente del comune di Canicattini Bagni che da anni seguiva le vicende personali della ragazza. Andrea Petrolito ritiene infatti che non sia stato fatto tutto il necessario per difendere la figlia che viveva nella casa della famiglia Cugno dal compagno violento. Il figlio di otto mesi nel frattempo è stato affidato ai servizi sociali ma dal comune assicurano che non appena la situazione tornerà alla normalità sarà avviato l'Iter per farlo tornare in famiglia. Ieri sera in paese è stata organizzata una fiaccolata a cui hanno partecipato centinaia di persone, molti uomini e donne con in mano fiaccole e lumini a precederli un grande striscione con la foto di Lauretta e un altro con la scritta Laura è viva nelle nostre coscienze. Il corteo è partito dalla caserma dei carabinieri per concludersi davanti alla chiesa madre in piazza 20 settembre.